Come si prepara? Non lo so, nel senso che noi l'abbiamo preparata, cercando di lavorare al massimo sulle cose che vorremmo fare bene, cercando di tenere un ambiente tranquillo, ma carico nello stesso tempo e chiaramente poi credo che individualmente ogni atleta, ogni giocatore e ogni membro dello staff poi abbiamo proprio vissuto una propria motività da gestire e questo poi riguarda un po' le sfere individuali e personali. Sì, sono state due gare diverse ma speculari, nel senso che alla fine due gare combattute dove all'andata sicuramente abbiamo fatto meglio noi al servizio di ricezione, mentre al ritorno a Vibo in battuta e in ricezione hanno fatto meglio loro, quindi questa cosa un po' sicuramente ha fatto la differenza all'interno di due partite molto tirate e molto combattute. Grazie a tutti!